Bentornati, innanzitutto vorrei ringraziarvi per l'importante traguardo dei 1000 iscritti raggiunto ieri, forse l'altro ieri, adesso non ricordo. Questo solo grazie a voi che mi avete sostenuto e grazie a voi spero di poter continuare a dare notizie su YouTube, Google permettendo, notizie il più possibile censurate o comunque trascurate dalla stampa principale italiana. Oggi però vorrei aggiornarvi sulla incredibile storia della pala d'altare della chiesa di San Paolo, di St. Paul, di Malm in Svezia, perché ci sono degli aggiornamenti importanti. Vi ricordate della solita chiesa di St. Paul a Malm diretta da Sofia Tunebro? Vi ho fatto un video non molte settimane fa con il suo pastore Elena Mistener. È stata tolta l'ultima pala d'altare per discriminazione di transessuali, vi ricorderete il video dell'altro giorno. Transessuale, un transessuale è stato raffigurato nella testa del serpente del paradiso e quindi apriti cielo, il serpente è simbolo del male nella cristianità e quindi c'è stato l'accostamento e quindi l'offesa dei transessuali. La pala d'altare è quindi paradiso di Elizabeth Olson Wallin sul modello, almeno a sua detta, con grande fantasia, della Damo e Deva, un'opera di Lucas Cranach di diversi secoli fa. È stata ora installata un'altra opera, un altro dipinto come pala d'altare, ovvero Last Supper, composto dalla stessa Wallin, dipinto dalla stessa Wallin nel 1998 sul modello dell'ultima cena del Cenacolo di Leonardo, in cui Gesù è con i tacchi e circondato da transessuali, così da rimediare alla discriminazione del quadro precedentemente collocato nella chiesa e con tutte le reazioni conseguenti. Nell'articolo di Pestis-Shradzok, da cui prendo la notizia, l'autore Deje Bolaage obietta che in questo quadro non trova tutta l'umanità rappresentazione, infatti manca il genere femminile. Dunque nemmeno l'autrice stessa viene rappresentata nella sua stessa opera, nel suo stesso dipinto. Torniamo indietro. L'autrice, quando è stata rimossa la prima sua opera dalla chiesa, ha commentato scossa e farita in questo modo. La chiesa svedese finora ha avuto problemi con il mondo trans, oggi invece vuole fare solo finta di preoccuparsi di loro. Questo è un passo avanti, ma il fatto che tolgano il quadro è una cosa diabolica. Si coprirà di vergogna di fronte alla storia, parlando, riferendosi alla chiesa luterana di Svezia. Comunque il secondo dipinto sembra che rimarrà lì, come pala d'altare della chiesa di Malmo, della cattedrale, anche considerando il contesto ecclesiastico in cui questa vicenda prende luogo. Ormai da mesi parliamo dell'avvento, dello scorso avvento, l'inizio dell'avvento, quando Paradiso, la prima opera, è stata collocata nella chiesa come segno di apertura verso tutti i fedeli della comunità. Basti pensare comunque che in questo contesto il vescovo, che è un po' il capo della chiesa di Stoccolma, il vescovo di Stoccolma, Eva Brunne, che è una persona omosessuale, una lesbica, è fiera sostenitrice del progressismo, dell'apertura, della modernità. Infatti ha addirittura affermato che lei si sente, o meglio, ha più cose in comune con i musulmani che con i cristiani. E poi nella sua notevole apertura culturale, nel 2015, alcuni anni fa, quindi, ha proposto di togliere i crocifissi dalla chiesa, o almeno temporaneamente toglierli dalla chiesa dei marinai di Göteborg, e segnare ad esempio la direzione di la Mecca, della Mecca, così da accogliere meglio i credenti non cristiani. Ora, questo per far capire la direzione che sta prendendo la chiesa in Svezia, e per esempio la direzione che invece mantiene la chiesa in Ungheria, che è totalmente di segno opposto. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, se ne volete altri condividetelo e iscrivetevi, mettete la campanellina per ricevere tutte le notifiche. Alla prossima!